Le nuove norme europee sui tatuaggi impongono uno stop ai prodotti contenenti isopropanolo. Dal 4 gennaio è entrata in vigore e prevede gli inchiostri che siano realizzati limitando l'uso di sostanze rischiose per la salute. Intervento legislativo che armonizza le diverse legislazioni nazionali dei paesi europei dando un'unica linea da seguire. La responsabilità del tatuatore sarà equiparata a quella del distributore e del produttore e sarà penale nel caso di uso di prodotti non conformi. Quello che noi potremo fare, che abbiamo iniziato a fare già dal 4 gennaio, è continuare il nostro lavoro in tutta sicurezza, con le giuste regole, cambiando semplicemente gli inchiostri che sono già stati messi in commercio. Il tatuatore professionista, quindi quello che si trova in studio e quello che ha la cosiddetta bottega del tatuaggio, è vincolato già da delle regole. Quindi dal momento in cui andrà a aprire la bottega, avrà delle regole, delle linee guida da seguire, altrimenti non potrebbe neanche aprire lo studio. Quindi detto questo, quello che noi faremo dal 4 gennaio non è nient'altro che fare quello che abbiamo fatto anche prima. Utilizzare i dispositivi di sicurezza come i guanti, piuttosto che le mascherine o gli occhiali, insomma. E continuare il nostro lavoro appunto con i pigmenti che sono già stati messi in vendita, che saranno in linea con le nuove regole europee. Mentre i produttori si allineano a quanto stabilito a Bruxelles, i clienti dovranno essere informati sui pigmenti usati. L'etichetta del prodotto sarà in vista con la dicitura, miscela per tatuaggi o trucco permanente ed il numero per l'identificazione dell'otto. Per i tatuatori significherà lavorare in modo ancora più sicuro. Unica nota dolente riguarda l'aumento dei costi dei prodotti e dei tatuaggi. Chiaramente ci saranno degli aumenti. Io ho potuto notare alcuni aumenti nel prezzo delle bottigliette, fino quasi a più del doppio.